Ciao amici, buon mercoledì, oggi Topolino 3441 con uno speciale gadget in allegato, ovvero le prime 20 carte con anche il contenitore, realizzate e ideate da Blasco Pisapia. Guardiamo le image insieme. Io sulle carte l'ho sempre pensato nel seguente modo, ovvero qualora escono due mazzi identici, per dire uno rosso, uno nero, uno bianco, uno blu, uno verde, uno giallo, uno lo tengo chiuso e l'altro lo apro, perché tanto sono identici. In questo caso però la Panini ha optato per un'iniziativa differente, ovvero realizzare 20 carte ora e 20 carte settimana prossima, per cui franze diverse e quindi non ha senso tenerne uno chiuso e un aperto, a meno che vogliate per collezionismo e per chiamate le carte comprarne di entrambe le versioni un aperto e uno da tenere chiuso. Il blister si presenta abbastanza bene, il primo numero tecnico importante è questo, 4,90 euro, una spesa apparentemente bassa, devo dire solamente 1,90 euro per la realizzazione di queste carte, ci sta tenendo conto che si uscirà anche la prossima uscita alle restanti 20, ma il prodotto sembra essere valido, soprattutto anche perché si parla delle carte napoletane, forse per la prima volta su Topolino. Questo dunque è il blister, oggi ne troviamo appunto direi una ventina e poi la seconda parte nella successiva settimana appunto fra sette giorni. Questo è il fumetto, grandissima, grandiosa copertina, andiamo a vedere di chi è perché assolutamente non bisogna sbagliare, Paolo Mottura e Mario Perrotta. Non si parla ancora della variante di questo numero che dovrebbe uscire appunto oggi, non se ne parla neanche in queste pagine, a meno che si dica qui, ma non penso, qua c'è solamente un editoriale legato ad Amelia che sarà protagonista della prossima avventura settimanale. Infatti la copertina è proprio a lei dedicata. Dunque questo qua era il fumetto, mentre piattoforte abbiamo le carte con anche questo contenitore che ci riservano di dovercelo aprire e farlo da noi, però effettivamente ed eventualmente anche il collezionista se lo può tenere chiuso o può aprire il fumetto per poi tenere chiuso il gadget. Io le apro assolutamente perché meritano. Questo è il contenitore, le carte napoletane, ora vediamo di non fare gaffe, di non romperlo, ma anche di certo di saperlo aprire in un degno modo. Eccolo qua, vediamo se a prova di stupido quanto sono io, sì direi di sì, semplicemente bisogna utilizzare queste alette e poi chiuderlo esattamente come si aspetta di fare. Vediamo che questa è l'entrata e quell'altra è l'uscita, direi che sono identici da dove si vuole aprire, ecco qua. Beh devo dire dai, carino eh, con lo zio da una parte e con Amelia dall'altra, le carte napoletane. Amelia non poteva mancare, visto che è la nostra cara strega che giace ai piedi del Vesuvio. Vediamo qua le carte, ricordo che sono napoletane, quindi non troviamo picche, cuori, quadri e fiori, ma troviamo bastoni, denari, coppe e spade se non vado errato. Questo è il re paperino, bellissimo, wow, qua la nonna papera che esce dalla coppa, o meglio la usa come piatto, come contenitore per la sua pasta, ma meraviglioso. Grande Blasco Pisapia, poi al tatto molto belle, quasi come se fossero laminate. Qua abbiamo due coppe che tra l'altro ho letto, secondo una sua intervista, che si è andato a studiare molto l'architettura, la ceramica di queste coppe di tanti secoli fa. Quindi c'è anche dietro uno sogno non da poco. Ancora tre coppe, quattro, vabbè qui il disegno è comunque suo, è di Pisapia, non ha nulla però di particolarmente che si riflette dal mondo del topo. Ma ecco qua poi ancora qualcos'altro, la donna, donna paperina. Il retro è tutto uguale direi. Il fante, il fante gastone e poi abbiamo il jolly direi. No, anzi non è il jolly, questo è asso di denari, sono confuso, che ritrae anche proprio dalla scatoletta. Molto bella, era giusto così che venisse data ad Amelia la possibilità di avere un ruolo importante nelle carte. I denari li avevo visti, hanno i topolini al posto della faccia, che sia solitamente. Uh, il qui qua qua, no, vabbè ma questa è una genialata. Ha voluto inserire i tre nipotini come se fossero tre denari. Bello. Continuano dunque i topolini all'interno dei denari, comunque molto belli. Anche al tatto ragazzi è una sensazione veramente non male. Bella Brigitta, Brigitta McBridge in formato donna. Molto bella, questi colori molto accesi. Non so che sia colorista, forse è lui, ma in ogni caso bellissimo. Il fante, Rockerdak, bellissimo. Fantastico, con questo cavallo quasi spietato, quasi indemoniato, ma comunque molto bello. E infine il re, che non poteva mancare, re paperone. Io non penso che con la prossima uscita uscirà anche un altro contenitore, non penso proprio. Visto che, ripeto, queste sono solamente 20 carte. Non mi sembra che nelle carte napoletane ci siano anche jolly, ma qualora ci fossero, troviamo 22. Oppure altrettante 20, giusto per completare il mazzo. Che, come avete intuito, quindi non saranno, ripeto, due uscite identiche. Ma settimana prossima, mercoledì prossimo, sarò nuovamente qua per farvi vedere le restanti 20. Che andranno a completare questo mazzetto davvero particolare da collezione legato al mondo di Topolino. Comunque per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!